Il concetto dell'albergo diffuso è un concetto nuovo, innovativo che può far fare l'operatore turistico a persone anche che non sono dei grandi operatori e quindi un particolare attenzione da parte della provincia proprio in un momento di difficoltà. Sono piccoli sistemi, piccoli modi per creare nuova imprenditoria. Si concretizza l'albergo diffuso sviluppato all'interno del comune di Onore. Con il nome di Borgo Presolana Living la cooperativa Aquilone vede materializzarsi un anno di lavoro. Inaugurato ufficialmente questa domenica la presenza di molte autorità, l'albergo diffuso ha visto la disponibilità e partecipazione dell'immobiliare proprietaria degli alloggi, commercianti, rappresentanti le varie associazioni e naturalmente i residenti. Un albergo che vuole quindi trovare un'integrazione con quanto già esistente e che vuole valorizzare il territorio senza pretendere che ci sia qualcosa di nuovo ma bensì valorizzando quello che già c'è. Quindi musica per le orecchie anche degli amministratori in un periodo dove sicuramente inventare qualcosa di nuovo è quasi impossibile ma valorizzare quello che già c'è sul territorio è invece molto importante. Si parte per cui cominceremo a lanciare insieme a tutte le altre agenzie del territorio questa valle che adoro, che adoriamo e ci crediamo per questo perché pensiamo di poter fare qualcosa insieme all'altra gente che opera nel turismo. Sono circa una sessantina i posti letto in appartamenti di notevole pregio messi a disposizione per questa grossa opportunità indirizzata ad un'offerta lavorativa allargata alle altre realtà del territorio. In una fase di crisi degli investimenti e anche dei consumi c'è ancora chi ha il coraggio di investire e lo fa con l'innovazione, l'innovazione di una nuova forma di ricettività che sfrutta gli immobili esistenti, li valorizza e li offre al turista per un'accoglienza sempre più forte all'interno del nostro territorio. Un modo intelligente per recuperare l'esistente, per ridare vita al nostro passato, per fruire di abitazioni che hanno già del vissuto, soprattutto di vivere come si deve vivere una vacanza in maniera serena, rilassata, in un ambiente naturale e in un contesto che sicuramente si sposa al meglio.